la parte finale in compagnia di sbaglio o mi hai segnato come Dean cretino non sbagli però è bello come sembra il nome Dean cretino eh guarda che si vede il mio contatto già nel video no nel video non si vedeva il contatto non ti preoccupare comunque che si fa stavolta un post finale lui si aspetterà un combattimento stupendo maestruzzo che dura tanto tempo che ti metta dura prova l'autopazienza invece durerà tipo 5 minuti una cosa del genere non saprei come dirtelo però io ancora ho la condivisione la ghera la bestia ma no a te la ghera ma qui no si vede bene no non hai capito tu stai registrando ma non so è già registrato ah già noi siamo qui che ridoppiare esatto mi dimentico sempre perché non l'ho mai fatto da me mai lo so ti giuro manco una volta tu non sei così professionale noi invece abbiamo le nostre tecnologie qui c'è il volto morte che risorge non nominare l'innominato oddio l'innominato sembra quello di sembra quello di 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 vabbè già c'ho abbastanza ieri già c'ho abbastanza ieri all'acconto mio però così eh infatti la passo per il regatto nero allora benissimo la musica in sottofondo qui che è la stessa di Aragog del secondo per PS1 ed è per PS2 qui c'è un magnifico effetto rimbalzante delle fatture dobbiamo sconfiggere praticamente gli scheletri che nascono dalla dalla terra dalle tombe nel film non c'erano nel film no infatti però vabbè non è che faccia quella cosa dopo c'è anche il fatto delle bacchette ovviamente non è nel libro ci stanno invece no no doccan doccan da lontano si vede il castello il castello vabbè del di Hangleton e la casa della del povero Frank Bryce è il il custode si ti ricordi quel babbano dall'inizio del film si si che viene fatto fuori mi sembra si un bel personaggio nel libro viene molto approfondito c'è tutto un capitolo dedicato a lui nel libro scommetto che era un bravo padre di famiglia non lo so no non viene mai accennato a sta cosa un bravo nonno di famiglia oh ok adesso qui quello che dobbiamo fare adesso è praticamente sconfiggere gli scheletri con la palla di energia che si è creata tra il contatto delle due bacchette e come eh io posso muovere li posso muovere vedi posso consumare e lui non si muove invece no lo vedi lo vedi bene vero si si e se vai verso di lui che succede niente cioè no è protetto nel libro succedeva una cosa strana cioè non è il tutto non avveniva per terra dopo aver lanciato le le fatture dopo che gli incantesmi gli incantesmi si erano incontrati si creava tipo una cupola una cupola immaginaria intorno a una cupola trasparente intorno a Henry e Voldemort e i due cominciavano a fluttuare in aria molto ora c'è l'ultima fase Voldemort tira fuori questa statua stile sell contro Gon ora e adesso dobbiamo sconfiggere quello che dobbiamo fare è distruggere la statua questa statua che gira intorno c'è anche nel nel film prima che lui venga risvegliato da Codalish esatto questa statua qua e dobbiamo e non è la statua della parola del ceno si che Codalisha lega Henry a questa statua si e non non c'era anche la tomba del padre di Voldemort qua si di qualche parte c'è però qui non si infatti Codalisha ha preso osso del padre precisamente non sappiamo quale poi l'osso di Tom Riddle come l'osso del padre no? ah si ma non è importante sapere quale su un osso poi la propria mano c'era anche un terzo ingrediente mi sembra il sanguidiere è quello più importante giusto sanguidiere più osso del padre e poi mano del servo che poi verrà ma lo sai che Codalisha ha dato a volte molto una mano no ha dato a volte molto una mano che risorge lo so lui se la mozza e poi gli dà quella metallica gli dà quella ahhh c'è un rivisto ora ho capito la battuta ahhh ci picchia ok abbiamo Frido contento? eh che un gioccio ma che brutto di un cretino termina chiamata termina con divisione non c'è filmato finale lasciamolo sentire in pace filmato finale come un gioco come un gioco come un gioco Grave... ...and true. No matter how convincingly you tell the story of what happened tonight, few will believe that Voldemort has returned. But tell the story you must. Perfetto. Abbiamo finito il gioco. Diego, ci sei? Che è? Pingodino. Sì, vedo i credit. Abbiamo finito il gioco. Ok, perfetto. Ora non faccio vedere tutti i crediti perché mi scoccio. Ah, vabbè. Questo work through è finito. Speriamo che vi sia piaciuto. Al più che altro io. Ringrazio Spyrox e Dingodino per aver partecipato a molte delle parti di questo work through. Eh, boh. Che dire, Dingodino per dire una cosa. Ok. Molto bene, però mi sarebbe piaciuto che fosse durata di più. Da veramente una fase con gli scaletti e poi lo scontro con le bacchette e la statua mi pare uno scontro indegno. Vabbè che lui è appena risorto, però dai, qualcosa in più non fa mai male. Eh, il film è più spettacolare. Vabbè, è bello perché l'atmosfera è bella, il fatto degli scaletti è bello, però un po' di più giustamente, dai. Tra l'altro sono belli i commenti di volte molto sottofondo. Vabbè. Comunque, vi aspetto con il prossimo work through che sarà un gioco stupendo, penso. Può essere, l'ho già registrata la prima parte, l'ho già montata, devo solo renderizzarla. Ovvero, leggo Harry Potter. Spero che funzioni bene sul PC, spero che non l'hai, altrimenti vedo, faccio la coppa del mondo di Quidditch o la principale di mezzosangue. Comunque, comincio leggo Harry Potter. Vabbè. Hai qualcosa da dire di Quidditch o seriamente? Eh? Vabbè. Vabbè. Vabbè dai. Alla prossima. Vabbè. Vabbè. Vabbè.